Potrebbe essere uno scontro dalle mille sorprese quello che attende i ragazzi di Mr. Filippazzo contro il Dattilo, squadra quest'ultima quinta in classifica a pari punti con lo Sciacca. Lo scontro, che si disputerà domenica presso lo stadio comunale di vita di Dattilo, è valido per la sedicesima giornata di campionato di promozione, richiede da parte di tutta la squadra del Profavara la massima concentrazione per portare a casa il match e conservare dunque la prima posizione in classifica. La volontà ovviamente non manca, ma bisogna ricordare che il Dattilo, squadra allenata da Mr. Carmelo Formisone, ha dato vita a veri e propri spettacoli calcistici, ribaltando situazioni apparentemente impossibili. Da considerare dunque la possibilità di una partita veramente difficile. Mr. Remondo Filippazzo dichiara di prepararsi insieme ai suoi con la massima tranquillità, nonostante l'assenza per infortuni del portiere Gianluca Vasile Cozzo e dei difensori Tony Tilaro, Gianluca Scuderi e Carmelo Argento. Ricordiamo che questo non scontra il vertice e che Mr. Filippazzo non sta facendo pesare sui uomini l'importanza del match. Probabile novità di domenica, l'inserimento da titolare del giovane Riccardo Agazzino, grazie anche ai risultati ottenuti nelle ultime due partite.